Ascolta una cosa, senti ma te qui frullino ce l'ha sempre, che avevo da tagliare l'erba e non mi parte, non mi parte, se tu ce l'ha un altro, poi ti ci metto la benzina perché ci misi la miscela e mi si inghippò. Ascolta, io frullino e non ce l'ho mia più, è un meno di portonno. Ma io ce l'avevo, ma lo sai è un eritrovo, eppure l'avevo messo da qualche parte, ma un me ne l'ammento, proprio non mi viene in mente da che parte l'avevo messo proprio. E ci misi la i4 e non funzionava, ci misi la i2 e mi si inghippò. Per Dio, non tu ce l'avevo anche il frullino dell'elettronio, quello che fa con l'orente. No, sì, non ce l'ho mia più quello lì. E ce ne avevo un paio di che gli avevano con l'orente, ma cosa, gli avevano un difetto, mi si sciupò. Il frullino esceva dal motore, quelli a corrente gli hanno apriti i icchi, e gli hanno troppo delicati. E ce ne hanno anche degli boni. No, è un cenno boni a corrente. Perché un gira, non ce la fa, gli aes gira. Perché se non ce la fa a girare, vuol dire che gli è lento, ci vuole un supporto. E non ce la fa, un gira, gli manca giga. Ti ci vuole un giga in più per dire, da due te lo puoi portare a tre, se tu ce l'ha a quattro, tu lo porti a cinque. Sennò non ce la fa, gli è lento, si impalla, si impunta. E un gira. Se non tu lo porti a quattro white. O tu ci metti una memoria esterna. E c'ho il Mac e flop i dischi. Sì, vabbè, buona. No, è un ce la fa. No, per Dio, è un ce la fa a mia. No, per Dio, è un ce la fa. Ah. È un gira, è un ce la fa. Cazzo, vai. È un ce la fa, non ti gira. È un dischetto, si blocca. Se farlo girato, ci devi buttare l'acqua di pacarello. Se tu ci metti l'acqua, una goccia d'olio, a noce di burro. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah.